finite le vacanze anche per il governo si comincia a parlare della manovra economica qual è la cosa più importante da fare io direi lavorare sui contratti fare dei contratti offrire dei contratti migliori 1 abbassamento dell'età pensionabile 2 controllo dell'evasione fiscale 3 riduzione dell'iva per me le cose concrete sono transizione ecologica giovani e cultura qual è la prima tassa da abbassare sicuramente per una partita iva che deve ingaggiare delle persone il governo ci deve supportare almeno per qualche anno per quanto riguarda i contributi la prima cosa che farebbe per il paese i soldi sono pochi che vogliamo fare per primo io punterei tanto sull'istruzione comunque sono un insegnante di sostegno per quello che riguarda sia l'istruzione dei ragazzi che per quello che invece riguarda l'insegnamento quindi la formazione dell'insegnante viene fatto veramente poco asilo stipendio più alto più possibilità di spesa quindi e di conseguenza più possibilità per un genitore di credere di poter dare il futuro al figlio il costo del lavoro sulle buste paghe se loro continuano a parlare di salario minimo salario minimo basta togliere le tasse salario minimo c'è già quindi cuneo fiscale cuneo fiscale sulla buste paghe sulla buste paghe